per i poverini perché c'erano i denti però fanno paura, in modo che hanno di muovere eh beh, se non lo vanno così e hanno fame, se non hanno fame, sì ma che belli c'è una giungola pazzesca questo è forte guarda che bello beh, questo è sì è visto il sub vedi, danno da mangiare sta facendo danno da mangiare guarda il sub va a fiorare eh, non lo farei proprio non lo farei proprio mamma, ho un'ora di due fram sì, ho mica fatto bene guarda, guarda che flotta guarda, 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 guarda 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 guarda, 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 guarda guarda, 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 guarda guarda, 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 guarda Che bello questo qui, wow! Bello, scuola sega. Eh, questi sono piccolini, sembrano... Guarda quell'era! La vedi? Sì, sì, è appena passata! Enorme! E non ha neanche la coda così! Guarda, tutte queste state sotto! Oh cavolo, che carino! Sanni, guarda, sono tutte attaccate sotto! Che bello! Oh, che bello! Che bello! Che bello! Che bello! Che bello! Che bello! In sc kehio! Grazie a tutti.